La possibilità di tornare a Firenze dopo alcuni mesi, tre mesi, quando un primo convegno organizzato sempre da Terra Nuova e da Assis ci aveva portato a riflettere su quello che all'epoca era un decreto legge preannunciato, sarebbe uscito dopo pochi giorni e su quella che minacciava di essere poi diventata la nuova normativa in materia di vaccini. Già quella volta iniziamo una riflessione, io, l'associazione, il gruppo di giuristi che ci siamo dedicati ad approfondire questo tema e abbiamo iniziato cercando di portarla avanti adesso e il mio tema sarà cercare di evidenziare quelli che sono soprattutto i principali profili di illegittimità di una legge. Ilegittimità di una legge sembra una contraddizione in termini, la legge fa e decide ciò che è legale e che è giusto ma nel nostro sistema e per fortuna e per questo siamo una democrazia costituzionale, una democrazia avanzata, anche le leggi, anche le decisioni del legislatore e del Parlamento non sono sciolte da controllo, da vincolo o da un giudizio di legittimità perché anche esse sono soggette alla Costituzione, quella carta fondamentale che ci siamo dati, che ci siamo dati a valere soprattutto in queste occasioni, in questi momenti, per far sì che le scelte di ogni potere e anche quelle del legislatore incontrino dei limiti, i limiti che sono quelli del rispetto, dei diritti fondamentali dei cittadini perché la Costituzione non è semplicemente, non è solamente una carta che stabilisce come è organizzato lo Stato ma è soprattutto, e questa è la sua prima parte, non a caso, la carta che stabilisce i diritti fondamentali dei cittadini, di ognuno di noi, di fronte al potere, di fronte allo Stato, di fronte agli atti del legislatore. Ecco, per questo abbiamo percepito noi come giuristi, ma credo anche voi, il motivo per cui tanti siete oggi in sala, un senso, un senso che ci ha spinto noi inizialmente, forse ha spinto anche voi qui, che è il senso di una ingiustizia fortissima che sta dietro a questo decreto legge, decreto legge oggi convertito il 31 luglio dalla legge 119 in materia di vaccini. E perché questo senso di ingiustizia? Parto da questo e poi vedremo di supportare queste mie affermazioni con dei, ovviamente, dei dati molto più concreti e di richiami agli articoli della Costituzione, perché secondo me sono state due, e non di poco conto, le violazioni molto gravi che sono state all'origine di questa nuova normativa. Non voglio entrare nelle motivazioni, probabilmente dopo di me altri lo faranno, su quelle che sono in realtà le vere motivazioni di questo provvedimento, ma questo sarebbe ipotizzare. Io parto da alcuni dati concreti e certi, e cioè sono state due gravissime violazioni, violazioni che in democrazia sono pesanti. Oggi noi non parliamo solo di vaccini, è stato detto partiamo da lontano, partiamo da principi importanti, che sono principi sì della salute, ma della libertà personale, del diritto alla vita, del diritto all'integrità fisica, per arrivare a quei valori che credo che siano ineludibili, cioè di democrazia e laicità in uno Stato moderno. Ebbene, la prima di queste violazioni è stata quella del dibattito, come è stato condotto e come è stato costretto il dibattito, e di come ha avuto luogo la decisione col decreto legge. In entrambi questi casi ci sono state, secondo me, modalità scorrette, che hanno portato a una legge assolutamente inadeguata, che anche nei suoi contenuti presenta moltissime illegittimità costituzionali. E quali sono questi? Allora, c'è un dibattito, c'è un confronto, poche volte ho visto così aspro nella società, fra due parti. Queste due parti però non sono in una posizione, non sono state messe in una posizione di parità, e di una possibilità di parità nel poter discutere e confrontarsi. Non è stato quindi consentito un dibattito, come dovrebbe essere in democrazia, tra le parti della comunità, di fronte a una scelta, e una scelta così importante. Si è diviso il campo tra giusto e sbagliato, bene e male, io ho sentito dire, e da una parte c'è una maggioranza, una maggioranza significativamente rumorosa, rappresentata dall'establishment medico e da chi attualmente governa questo Paese, e ci sta che sia una maggioranza e io non voglio minimamente sminuirla. Però, dall'altra parte, quella che era una minoranza di medici è diventata sempre meno rumorosa, è sempre più ridotta al silenzio, perché lo è stato accennato e voglio rifarmi, è stata ridotta al silenzio. Noi abbiamo assistito a un momento in cui la posizione prevalente in ambito medico è diventata posizione dominante. Sembra cosa di poco conto, ma nella scienza e nella scienza medica una posizione dominante, dominante nel senso di potere, non può e non deve esistere. Nel campo della scienza medica, che va avanti per dialogo, dibattito, per successive approssimazioni, non può esistere una posizione dominante che impone il suo potere e dominio nei confronti di una minoranza che non può esprimersi perché viene ridotta al silenzio. E' stato citato il caso di un medico radiato, non è l'unico, cioè si è arrivato al paradosso per cui si è stabilito che quello che era il principio sancito dalla establishment medico principale era una verità assoluta, una certezza che non si poteva discutere, una certezza incontestabile. E guardate che questo principio va contro l'idea stessa della cultura moderna e di scienza moderna come noi lo intendiamo. La scienza per definizione non è portapertrice di certezze assolute, quello è il compito della fede e dei dogmi. La scienza ha dato lezioni di democrazia nel corso dei secoli perché ha sempre sancito il principio del valore, della discussione, del dubbio, della critica e dell'ascetticismo. E attraverso questo la scienza è costantemente progredita, per questo oggi le verità di scienza che noi riconosciamo non sono quelle di cent'anni fa e sono cambiate in continuazione e cambieranno. Nonostante questo tentativo dogmatico di porre fine al dibattito, cambieranno perché non si può ingabbiare il dibattito e il progresso scientifico. Per questo noi abbiamo assistito a un nuovo riaffermarsi del dogmatismo. Dogmatismo che tra l'altro va contro, lo dico subito, un principio della Costituzione che è l'articolo 33 che dice che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Questo è un principio di valenza costituzionale e democratica. Stabilire che arriva un momento in cui non c'è più libertà di scienza perché si è arrivati a un valore, a una verità assoluta e quindi non se ne può più discutere. E chi contesta questo non viene tacciato, viene messo fuori dal consesso della discussione scientifica, viene radiato, viene cancellato dall'albo dei medici. Il documento della Federazione dell'Ordine dei Medici dell'8 luglio 2016 ha stabilito che il consiglio di non vaccinarsi al di fuori dei casi in cui c'è un deficit immunitario è, se fornito al pubblico con qualunque mezzo, violazione deontologica. Quindi un medico non può affermare liberamente quella che è la sua convinzione in materia. Si è deciso, cioè, che il dibattito non potesse avere luogo, che il dibattito fosse tra chi sostiene un'opinione maggioritaria e chi l'opinione minoritaria non ha il diritto di affermarla. E questo è stato grave fin dall'inizio. Per questo è nato subito, secondo me, un vulnus democratico. E questo ha portato, e l'ha portato in maniera strettamente collegata, a una violazione, a un vulnus giuridico. Cioè, il governo è intervenuto, prima di vedere come, è intervenuto con un decreto legge. Decreto legge è un provvedimento di straordinaria necessità e urgenza che si fa in certi casi limitati e eccezionali, come dice la Costituzione. È intervenuto in maniera pesante, stabilendo, ad esempio, delle sanzioni che non sono solo quelle pecuniarie, ma la sanzione principale, il divieto per i bambini, di accedere al sistema scolastico d'infanzia, che non è scuola dell'obbligo, ma che è un diritto di istruzione sancito dalla Costituzione, di cui parlerà dopo un collega, e quindi una sanzione impropria, gravissima, che è l'esclusione dal sistema scolastico nel suo primo gradino. Tutto questo è stato fatto senza un dibattito legittimo e corretto nella comunità, ma soprattutto senza un dibattito in Parlamento. Io sono stato interpellato, sono intervenuto nella Commissione del Senato per portare la mia opinione. Sono intervenuto un giorno, portando quelle che erano le critiche al decreto legge, che inizialmente era anche peggio della legge che è uscita, ho trovato anche alcuni parlamentari attenti e alla fine dell'audizione una senatrice mi ha detto guardi, se può per piacere avvocato scrivermi due appunti, entro questa sera, erano le sette, perché entro domattina alle dieci dobbiamo presentare gli emendamenti. In quella notte i senatori dovevano scrivere i possibili emendamenti e discutere di questa legge, perché c'era un tempo che non consentiva il dibattito democratico in quel luogo che è la sede del dibattito democratico di un Paese, e cioè il Parlamento. E perché non si poteva? Perché il Governo ha scelto, ma è stata una scelta voluta e maliziosa, di non consentire l'approvazione normale di una legge che avrebbe previsto un ampio dibattito, avrebbe previsto il confrontarsi di esperti nelle commissioni, avrebbe sicuramente migliorato i termini di questa legge, ha voluto imporre anche in questo caso un limite alla discussione. C'era stato un limite alla discussione medica, c'è stato un limite ancora più pressante alle discussioni democratiche in Parlamento. Quindi di notte si sono presentati gli emendamenti, si sono votati con un sistema rabberciato e di fiducia, e non si è consentito al Parlamento di pronunciarsi liberamente. Allora perché non lo si è consentito? Perché c'è stato questo cortocircuito tra scienze e diritto? Che vi dico, è un problema di democrazia al di là delle leggi che ne uscite, perché è un problema di laicità dello Stato, perché la laicità dello Stato non è solo il principio per cui lo Stato è libero dai dogmi religiosi, ma è il principio per cui lo Stato è libero da ogni dogma, anche scientifico. È il principio per cui non esistono valori e beni assoluti. Non esistono e non possono esistere verità assolute di cui non si può discutere democraticamente. Perché guardate che il concetto di bene assoluto e di bene supremo, in virtù del quale sono fatte le peggiori sceleratezze, perché come tutti sappiamo di buone intenzioni è la stricata anche alla strada dell'inferno, è un principio fondamentalmente antidemocratico. Quindi, la salute cos'è? Costituzionalmente e secondo il diritto costituzionale. Il primo principio, una carta poco citata, che è la carta di Ottawa del 1986, firmata da tutti i paesi aderenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità Sanciva, che la salute è un diritto che devono esercitare i cittadini. Questo è importante. Il cittadino non è l'oggetto della tutela della salute che cala dall'alto un potere, che pensa al bene del cittadino. No, la salute è un diritto che va esercitato e dice questa carta fondamentale. La promozione della salute è il processo che consente alle persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla autonomamente attraverso il conspimento di scelte consapevoli. Questa è la promozione della salute in un sistema moderno e democratico. A questo punto noi vediamo subito quali sono i vizi principali di costituzionalità. Mi concentrerò su uno, perché altri verranno poi illustrati dai colleghi. Questa legge viola un principio fondamentale che è il diritto alla salute e i limiti imposti al rispetto della persona umana e della libera autodeterminazione anche in materia di trattamenti sanitari. Allora, una sentenza della Corte Costituzionale fondamentale, la numero 238 del 1986, stabiliva, cito testualmente, che il diritto alla vita insieme al diritto all'integrità fisica, alla libertà personale, nonché il diritto a non subire trattamenti medici non voluti, sono tutti diritti inviolabili che costituiscono l'indieffettibile nucleo essenziale dell'individuo, nonché la matrice prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto della persona. Tra questi diritti viene citato espressamente il diritto a non subire trattamenti medici non voluti e successivamente, parlando dell'articolo 32 della Costituzione dove c'è il diritto alla salute, un'altra sentenza del 218 del 94 dice che espressamente due sono i riferimenti costituzionali, l'individuo e la collettività e si può comprimere il diritto dell'individuo a favore dell'interesse della collettività, quello che ci viene detto dalla Lorenzin che dobbiamo proteggere la collettività dai nostri o dai vostri figli malati solo di fronte a un coesistente e accertato diritto della collettività che giustifichi questa eccezionale compressione di un diritto di libertà. Allora, un'altra sentenza della Corte Costituzionale che è la 438 del 2008 sancisce un principio che nella Costituzione non è scritto ma che viene considerato implicito che è quello del consenso informato e cos'è il consenso informato? È il principio per cui il cittadino deve dare un suo consapevole adesione e consenso al trattamento sanitario che gli viene proposto ed è un vero e proprio diritto che è la sintesi di due diritti fondamentali quello alla salute ma quello all'autodeterminazione. Quindi è ovvio che se per tutelare un fondamentale diritto costituzionale è necessario che il consenso sia informato è ovvio anche che il cittadino a seguito dell'informazione deve poter rifiutare il consenso perché se viene informato e non può rifiutare non è più un consenso informato ma è un'imposizione informata e questo è un altro principio fondamentale e guardate che il consenso informato che non è questione da modulo burocratico o da una firmetta dal medico trasforma il paziente da oggetto nelle mani della scienza medica come è stato per secoli a soggetto morale autonomo è raffiocinante capace di esprimere le sue scelte e di autodeterminarsi coerentemente con la sua struttura di valori le sue scelte la sua libertà e la sua personale dignità il consenso informato rappresenta in ambito medico questo principio e questo valore e guardate che anche la pratica medica di cui sembra che noi siamo solo oggetti nelle mani di medici sapienti che decidono per noi cosa è bene è stato oggetto di un'altra sentenza interessantissima e con questo cito la citazione delle sentenze per non tediarvi troppo che è una sentenza del 2002 che è la 282 che dice testualmente che il legislatore non può di norma stabilire direttamente e specificamente quali sono le pratiche terapeutiche ammesse con quali limiti e quali condizioni salvo che entri in gioco altri diritti e doveri costituzionali perché? perché la scelta delle pratiche mediche compete all'autonomia e alla responsabilità del medico e al consenso del paziente per questo non si calano dall'alto le scelte di pratica medica e per questo una convenzione di Oviedo fondamentale la convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina che l'Italia ha ratificato nel 2001 stabilisce all'articolo 5 che il libero consenso della persona interessata è indispensabile per ogni trattamento medico e aggiunge un'altra cosa meno nota all'articolo 28 che quando uno Stato deve adottare delle scelte che comporti un'implicazione medica sociale, economica e etica deve dar vita a un dibattito pubblico appropriato quello che in questo caso è mancato quello che questo Stato non ha voluto fare allora scendendo velocemente anche la carta di Nizza la carta europea cita il principio del consenso noi oggi ci troviamo di fronte a una legge che secondo me viene meno a una serie di principi il primo è il principio di proporzionalità di ragionevolezza cioè io posso adottare una legge ragionevolmente proporzionata a risolvere una questione a dare risposta a un fatto ebbene nel far questo io devo seguire dei principi che sono i principi di coerenza necessarietà e adeguatezza allora la prima cosa che noi vediamo nelle premesse del decreto adottato è che si è intervenuti per far fronte a una situazione di emergenza la situazione di emergenza sanitaria in realtà da un punto di vista epidemiologico non c'è e non esisteva allora non si è intervenuto di fronte a una reale situazione di emergenza ma si è utilizzata la situazione di emergenza in maniera strumentale e disattendendo un altro principio fondamentale la moltiplicazione abnorme del numero dei vaccini senza che ci sia uno studio reale sulle loro possibili conseguenze anche per l'uso combinato che può amplificare le conseguenze negative viola un altro principio sancito non nella Costituzione ma nella giurisprudenza comunitaria che è il principio di precauzione che è stato sancito in materia ambientale ma che è stato esteso dalla Corte di Giustizia europea a tutte le materie e gli ambiti di salute pubblica e cosa dice questo principio? Dice una cosa fondamentale che quando si adotta una norma che ha conseguenze sulla salute pubblica non solo bisogna stare attenti ai rischi provati e certi ma bisogna evitare di adottare una norma quando ci sia un rischio della salute che non possa essere escluso il principio di precauzione mi impone di comprovare di essere certo che non siano escludibili conseguenze dannose e non c'è nessuno studio sull'aumento esponenziale che questo obbligo vaccinale comporterà per gli effetti combinati e cumulativi sulla salute delle persone ci saranno non ci saranno io non sono un medico non sto a me a dirlo ma una cosa posso dirla non ci sono studi e questo governo non li ha fatti e non li ha presi in considerazione anche perché un tipo di vaccinazione strutturata in questo modo è in realtà un caso di cavia unicum di fronte ai quali noi saremo soggetti a una sperimentazione sostanzialmente questo sarà allora io ho sentito una dichiarazione ieri del ministro Lorenzin la quale dice siamo dovuti intervenire perché esiste un'epidemia l'epidemia non è la prima volta che Lorenzin fa dichiarazioni clamorosamente false mi ricordo quella su sull'epidemia i morti a Londra sullo stato straniero che aveva invitato a boicottare il Veneto e il parco di Gardaland ci sarebbe da chiedersi quando un ministro della sanità si presta a propagandare queste bufale che senso abbia chiedersi cosa sono le fake news su facebook ma questa è una notazione volutamente polemica ebbene questo decreto è giustificato dal fatto che c'è un'epidemia in corso per cui bisogna mettere mano con urgenza e si è messo mano con tale urgenza in una maniera talmente rabberciata che voi che leggete i quotidiani sapete che ogni giorno le autorità sanitarie quelle scolastiche stanno cercando in ogni modo di consentire l'inizio dell'anno scolastico perché non si sono previste le modalità idonee di informazione di consenso di trasmissione dei dati ieri il garante della privacy è stato costretto tirato per la giacchetta a fare un provvedimento molto forzato che autorizza le scuole a trasmettere i dati degli iscritti alle autorità sanitarie bene si fa per dire ma persino il garante della privacy è stato costretto ad aggiungere che però le autorità sanitarie non potranno rimandare gli elenchi alle scuole specificando gli alunni vaccinati e non vaccinati e non potranno e perché non potranno perché sono dati personali e sensibili che la legge sulla privacy stabilisce che possono essere passati da amministrazione solo in presenza di norma legislativa che lo preveda ma il garante sulla privacy ha detto che cercando di collaborare con i ministeri di semplificare il tutto ha invitato le autorità a dotarsi di norme regolamentari per vedere se come si potrà un giorno fare quindi noi siamo al primo settembre che stiamo cercando di forzare delle norme esistenti perché il governo ha corso per approvare una norma ma perché ha corso se un'epidemia non c'è nonostante quello che dice il ministro Lorenzin ha corso perché questa legge se fosse stata esaminata con i dovuti tempi con un dibattito democratico e non strozzato e attraverso le procedure ordinarie non sarebbe passata in questi termini sarebbe sicuramente stato oggetto di altre diverse valutazioni per questo io ritengo che questa legge al di là del contenuto per me è pessimo è un pessimo segnale di come si possono fare norme che vanno a colpire la salute e i diritti di tantissime persone cito solo il diritto all'istruzione dei bambini da 0 a 6 anni che non potranno accedere al primo grado di istruzione alla scuola di infanzia lo si è fatto con una forzatura in assenza di dibattito democratico e utilizzando criteri in realtà infondati per questo io credo che sia giusto combattere questo tipo di approccio legislativo non solo perché la legge è scritta davvero male ma perché è la logica e lo spirito che la sottendono che secondo me costituiscono un grave vulnus democratico e concludo dicendo che quando lo Stato ha cessato di accettare i dogmi di fede e di scienza stabilendo che non esistono verità assolute ma che i cittadini democraticamente devono scegliere ciò che nel loro interesse attraverso i loro rappresentanti e che i rappresentanti deve essere consentito di fare rappresentanti e di discutere di queste cose con i tempi e le modalità e senza un voto di fiducia perché se si votava contro questo decreto cadeva il governo beh quando si è deciso di fare questo si è entrati nella democrazia moderna cioè si è deciso che non esiste un orizzonte unico verso il quale noi dobbiamo tendere non c'è un bene assoluto stabilito da un dio o dagli scienziati che oggi sono maggioranza ma esiste un orizzonte che i cittadini si danno conformemente ai loro principi ai loro valori e alle loro scelte democratiche non esiste la possibilità di imporre un bene superiore o una salute pubblica al di fuori di queste modalità democratiche perché al di fuori di queste modalità democratiche la democrazia cessa di essere tale grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti